Prosegue ormai a colpi di fioretto il tema plastica monouso tra Italia e Unione Europea. Dopo la bocciatura da parte dell'Unione Europea della normativa italiana sull'utilizzo di plastica biodegradabile, Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, parla di un'Europa miope che penalizza le eccellenze imprenditoriali del nord-est. Le aziende italiane del settore leader nel campo dei prodotti biodegradabili, spiega Borchia in un comunicato, da lungo tempo hanno intrapreso un percorso di sostenibilità con investimenti importanti al fine di raggiungere gli obiettivi di economia circolare e persino anticipando il target richiesto dall'Unione Europea. Conte una Borchia, minacciare l'avvio di una procedura di infrazione per la deroga sulle monouso non è solo eccessivo, ma andrebbe a colpire ulteriormente un comparto all'avanguardia che andrebbe a minare pericolosamente le competitività delle nostre aziende. Conclude l'Europarlamentare.